Ciao bambini e benvenuti nel nuovo video di Cicero in Roma Ciao, oggi parliamo di... una cosa complicatissima però cerchiamo di cogliere i punti fondamentali cioè perché festeggiamo il 25 aprile ci siamo la festa della... liberazione liberazione, da che ci siamo liberati? Perché siamo liberati? come in ogni storia che si rispetti in questa storia ci sono due cattivi, super cattivi uno, eccolo qua, si chiama Hitler e uno, eccolo qua, si chiama Mussolini ci siete? Perché è giallo Hitler? perché è pazzo e perché Mussolini è rosso? perché è infuriato ecco diciamo che erano nervosetti tutti e due uno era tedesco, abitava in Germania l'altro era italiano ce l'avevamo noi, era il nostro dittatore ok questi due tizi avevano un esercito insieme che era fatto di persone che andavano in guerra questo è l'esercito contro di loro c'erano gli alleati gli alleati che erano composti, un gruppone senza entrare troppo nello specifico che erano composto da varie nazioni che combattevano contro i nazisti e i fascisti si chiamano nazi fascisti cioè i dittatori che vi abbiamo detto prima lo sapete che volevano i due super cattivi? volevano controllare tutto il mondo per amore del vero non era tanto Mussolini Mussolini era un po' così era più questo che voleva controllare il mondo e ne accombinate vi assicuro ragazzi che poi quando studiate la storia della seconda guerra mondiale scoprirete bene tutto il macello che ha fatto Hitler non voglio aprire questa parentesi ma i genitori sanno sicuramente di cosa sto parlando comunque hanno fatto quindi iniziata questa guerra prego facciamo la guerra e zio lupo vai vai devi girare verso di loro se no che vedono noi siamo i nazi fascisti effettivamente belli eh effettivamente però in questa storia non ci sono solamente i soldati e i i dittatori ma ci sta anche la gente comune che è successo? che immaginatevi facciamo un esempio pratico arriva un dittatore da voi e vi dice da ora in poi dovete fare quello che dico io quindi non vi potete più vestiti con la maietta rossa tu che colore c'hai gli occhi? verdi no allora quelli con gli occhi verdi e quelli che gli piacciono le lucertole devono andare tutti in prigione e che fai tu l'artista, il cantante? no puoi fare il cantante non mi piacciono le canzoni via leviamo tutte le canzoni e uno gli dice ma che vuoi? ma perché? ma no a me mi piace cantare ho gli occhi verdi e mi piacciono le lucertole perché? non posso fare quello che voglio scusa ecco un dittatore è così cioè decidono delle cose che secondo loro si possono fare e quello che non si può fare e chiaramente tutto il resto va eliminato hai capito? ti piacerebbe? eh no per niente a malapena sopportate quando mamma o papà vi dicono che dovete fare la doccia pensa se uno vi dice quello si può fare e quell'altro non si può fare quindi oltre ai soldati alleati i soldati alleati lavoravano insieme ecco reggimi soldati alleati Ezio Lupo lavoravano insieme ai partigiani eccoli qua i partigiani erano persone normali persone come noi ok? persone che avevano però la voglia di essere ribelli perché non è facile ribellarsi i partigiani avevano deciso di lasciare le loro case nascondersi in montagna dove non li trovavano ovviamente perché? perché l'esercito di Mussolini li cercava ovviamente come? e li cercava per metterli in prigione per fargli del male quindi loro si dovevano nascondere e insieme ai soldati cercandosi di aiutare cercavano appunto di affrontare e vincere la guerra cioè liberare ho usato la parola liberare vedi? reggi partigiani liberare il nostro la nostra terra le nostre città da questi eserciti super cattivi ok? che rappresentavano il appunto le dittature il potere l'asse che si chiama nazi fascista attenzione ragazzi perché è molto difficile parlare di guerra perché si fa presto a dire che c'erano i soldati cattivi i soldati buoni la verità è che è molto difficile capire chi è buono e chi è cattivo e a volte nessuno dei due lo è per esempio per esempio i soldati di Mussolini erano costretti a essere soldati dovevano per forza se non volevi fare il soldato dovevi disertare si dice cioè scappare e non fare la guerra ma non era facile perché qualcuno che ha disertato poi è andato in montagna con loro a fare il partigiano capito a combattere con loro ma questi erano persone normali persone come noi non è che erano soldati addestrati capito quindi era molto difficile per loro riuscire a sconfiggere i super cattivi loro sono stati in molti casi un po' disgraziatelli perché magari rubavano il cibo nelle case no entravano di notte prendevano le galline il pane insomma non è che sono stati proprio bravi bravi sempre però ragazzi c'è da dire che di contro hanno aiutato hanno aiutato poi l'esercito laddove non arrivava l'esercito degli alleati a sconfiggere il fascismo ok a sconfiggere il famoso dittatore questo qua e gli alleati in tutta Europa hanno poi li sono riusciti a sconfiggere questo qua che era veramente il pericolo numero uno questo qua ok però come vi dicevo molti di questi partigiani fai vedere i partigiani sono stati presi vai fai vedere questa scenetta parliamo di cose tristi sono stati arrestati e Grazie.